Sono molto lieto che voi avete scelto me come per il premio il riconoscimento del mio lavoro sull'immigrazione italiana a Chicago e vengo con piacere fra un anno a Castelluccio Inferiore con molto piacere e con tanto orgoglio. Io sono impassionato della storia italo-americano e la storia dei miei antenati e la storia di Italia e di America e voglio ringraziare il comitato che ha scelto me e anche voglio ringraziare il professore Rossini e il mio amico Meo Carbone che ha nominato me per questo grande onore. Arrivederci a giugno 29 2019. Ciao!